Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video, vi parlo di un libro, di un bel libro, vedete qui la copertina, si intitola La mia ordinaria vita straordinaria, scritto da Tamara Fumagalli, il cognome è una garanzia, Tamara Fumagalli mia collega di inglese, ha già scritto un libro 24 doni per Natale di cui io vi ho già parlato in un altro video, andate a vederlo se non l'avete guardato, adesso parliamo di questo. Allora qui Tamara si racconta, Tamara si racconta, è lei, è lei, tutto quello che leggerete è tutto vero, anche se uno potrebbe pensare ma figurati, no 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 no, è proprio così. Allora Tamara qui racconta della sua vita ordinaria, cioè normale di tutti i giorni, che però diventa una vita straordinaria per il modo in cui lei la affronta, perché lei, obbligata sulla sedia a brotelle, sul mobility elettrico a causa della sclerosi multipla, non vuole lasciarsi mancare niente, vuole continuare a vivere come viveva prima, quando riusciva ancora a camminare sulle sue gambe. E così rende veramente la sua vita ordinaria una vita straordinaria, perché è una cosa anche banale come può essere prendere e andare a scuola a lavorare la mattina, diventa straordinaria, perché lei non può prendere la macchina, venire, parcheggiare e arrivare in classe, lei decide di fare il percorso con la sua mobility elettrica, per cui che ci sia la pioggia, la neve, la grandine, la nebbia, lei arriva col suo pastrano in testa, la vedi arrivare, che sfreccia a 10 all'ora, quanto ho capito dovrebbe essere il massimo di velocità che raggiunge con questo suo mobility, e arriva a scuola così. Questa è una delle cose che fa, ma lei fa di tutto, in particolare viaggiare. Lei viaggia tantissimo, a lei piace tantissimo viaggiare, quando ci si incontra nella aula prof e si parla del più e del meno, spesso lei dice ho prenotato per andare via a carnevale, ho prenotato per andare via a Pasqua, ho prenotato per il ponte del 25 aprile, tutti i ponti sono suoi, non ne lascia manco uno, sicuramente, e tu ti chiedi ma come fa? Come fa? Visto che davvero ha difficoltà motorie piuttosto gravi, ma lei ride, sorride, prende e se ne va. Sicuramente, come dice nel libro, questo le è possibile, perché ha tante persone vicine, a partire dal suo marito, sua figlia, i suoi genitori, che l'aiutano, però io penso che se anche ci fossero queste persone, ma lei non avesse quello spirito, la situazione non sarebbe così. Invece lei non si piange addosso, ma decide appunto di rendere la sua vita ordinaria, renderla appunto straordinaria, rendendo straordinario quello che per una persona è invece normale. Quindi ci racconta in questo suo libro, parlando con il lettore, dando del tuo al lettore, interagendo con lui, ogni tanto gli fa qualche domanda, gli dice guarda che se non ti piace il libro vai avanti e salta queste pagine, leggi quello che vuoi, non sei obbligato a leggere tutto, ok, però io vi assicuro che se prendete il libro lo leggete tutto. Ecco, lei dialogando con il lettore racconta la sua vita, anche non in ordine cronologico, racconta alcuni episodi, alcuni sprazzi di vita, dove tra l'altro ne combina di cotte e di crude, e quando voi vi chiederete ma no, no, è impossibile che abbia fatto sta cosa, l'ha fatta, l'ha fatta, no, 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 l'ha fatta, fidatevi. E ci racconta in modo veramente anche divertente, molto leggero, questa sua vita, entrando anche in particolari molto personali, che però ci fanno veramente capire chi è Tamara. E la cosa bella, secondo me, è veramente il messaggio che lei lancia a tutti, sia a quelli che magari si trovano nelle sue condizioni, ma secondo me a tutti, quelli che magari invece di problemi fisici non ne hanno, però magari ne hanno altri, peggio, però fa niente, il messaggio è quello veramente, prendete la vita come viene e cercate di viverla al meglio, anche se incontrate dei problemi, cercate di, in tutti i modi, di superarli e di dare il meglio per non piangervi addosso, ma fare di tutto appunto per affrontare la vita in un certo modo. E' logico che anche lei, come dice nel suo libro, ha dei momenti di scoramento, di tristezza, dei momenti dove si mette a piangere perché è normale che sia così, però dice io cerco di fare di tutto per affrontare a testa alta questa sua situazione. Quindi parla veramente dei momenti belli, anche dei momenti tristi, dei momenti in cui non ha voglia di fare la fisioterapia tutti i giorni perché diventa davvero faticoso compiere sempre gli stessi movimenti, eccetera, però ci fa veramente entrare nella sua vita ma ci dà una carica perché quando tu finisci di leggere il libro dici davvero, se ce la fa lei, se lei affronta la vita col sorriso e allora perché non lo dovrei fare io? Vi leggo un pezzettino e poi chiudo il video, io gliel'ho detto che l'avrei letto, quindi spoiler un pezzettino, ma lei è d'accordo, è il pezzettino che mi ha emozionato di più, è quello in cui siamo a pagina 69, lei racconta il momento in cui ha preso con certezza di avere la sclerosi multipla perché prima gliel'avevano ventilata, questa cosa a un certo punto fa degli esami specifici, arriva il dottore e le dice guarda che è effettivamente sclerosi multipla, non vi leggo il prezzo precedente però dove lei dice che era ricoverata in ospedale con tre compagne in camera, tutti e tre con un tumore anche grave che non si sapeva se poteva essere guarito, se poteva essere curabile o meno, diceva che sentiva una di queste donne piangere tutte le notti proprio per questa situazione, allora in questa situazione lei racconta, il mattino del 9 settembre mi hanno convocata in sala prelievi liquid, dove doveva fare appunto questo esame particolare, devo ammettere che il medico è stato bravissimo, non ho sentito nulla, trascorsi dieci minuti ero già in camera, assolutamente confinata nel letto con l'ordine di non muovermi e nemmeno girare troppo la testa, nel tardo pomeriggio è ricomparso il dottore, l'esito del prelievo era arrivato e con lui la diagnosi, ricordo che il medico si è avvicinato a letto e guardando un po' me e un po' mia mamma che aveva insistito per passare quella giornata con me, ha esordito con queste parole, purtroppo dobbiamo confermare la diagnosi di sclerosi multipla, ho avuto due pensieri immediati, non so dire quale sia arrivato prima e quale sia arrivato dopo, uno sicuramente era il pensare a mia madre, non doveva essere stato bello sentirsi dire una cosa simile riguardo a sua figlia e poi doverlo riferire a mio papà e a mio fratello, ricordo ancora la stretta allo stomaco e il dolore che ho provato pensando a come si dovesse essere sentita, l'altro pensiero è stato il sollievo, non era nulla di incurabile, era solamente qualcosa di inguaribile ma niente a che vedere con ciò che stavano vivendo le mie compagne a distanza, non sono riuscita a evitare di dire ad alta voce, meno male è solamente questo, il medico mi ha guardato attonito e forse credendo che non avessi ben compreso l'entità della patologia, mi ha spiegato che non poteva dirmi come si sarebbe voluta e che cosa avrebbe comportato, ma mi poteva assicurare che la malattia era curabile seppure non guaribile e mi ha rinviato a una sua collega specializzata in questa patologia, quella sera da sola nel letto mentre sentivo la mia compagna a distanza malata di tumore al cervelletto piangere ho pensato e ho giurato a me stessa che io non avrei mai dovuto farlo, sarebbe stato come un oltraggio alla mia compagna a distanza, la mia malattia non era assolutamente paragonabile al dramma di quella ragazza e del fidanzato che ogni giorno la veniva a trovare e così è stato, non ho mai pianto per mesi, quasi per oltre un anno, poi in realtà lei racconta, dice che certo il momento in cui ha pianto è arrivato, i momenti di tristezza, di scoramento sono arrivati, però non hanno mai prevalso nella sua vita e per questo la sua vita ordinaria è in realtà straordinaria. Brava Tamara, comprate il libro, ciao a tutti!